Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Genetic Dineari Eccoci qua con un altro gameplay del nostro simpaticissimo amico lanoso Yarni Allora, avevamo fatto Due livelli Allora, rispetto all'ultimo gameplay sono riuscito a rifarlo per conto mio e ho trovato 3 su 5 di quegli oggetti Adesso andiamo in questo prossimo episodio che è Palude di Bacche Andiamo I livelli si fanno sempre più complicati Vediamo cosa ci aspetta in questo episodio Cerchiamo di riunire i ricordi di questa famiglia Allora ragazzi, io rimango sempre affascinato da Dal design e dalla musica E di tutto il comparto che c'è dietro a questo titolo Purtroppo ogni tanto veramente ti porta all'esasperazione Allora, vediamo un attimino Poi torniamo Torniamo qui Voglio soltanto vedere una cosa Allora Andiamo su qua E gli diamo un bel nodo Andiamo su qua E gli diamo un bel nodo Ok, no Pensavo Pensavo che potevo fare tipo un lazzo Allora Andiamo a fare una cosa un po' No Op Op Voilà Poi E Op Andiamo su Allora Adesso poi dobbiamo andare lassù Oh! No! Wow! Tac, 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 tac. Allora, penso che... Devo andare là, allora. Wow! Uh, guardate cosa ho trovato. Ho trovato... ...un oggetto. Andiamo, Tarzan! Ok. Ok. E uno. Non vorrei dire qualche cavolata, ma mi sa che questo serviva solo per... ...per andare a prendere... Wow! Wow! Oddio! Wow! Me lo... ...me lo rislego... ...perché non vorrei che magari... ...aspetta... ...la... 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 ...e quindi... ...velli dev'essere quasi affogato qua... ...ah... ...aspetta, aspetta, ecco, lo sapevo. ... ...merda! Opa Ok 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 Allora ci riproviamo Così Questa lo richiamo qua Qua Lo richiamo qua così Questo lo richiamo qua così Oh Voilà Tacchete Questa è una volta buona Ok Diciamo che Ho fatto questo Ok Sai che mi serve Questo è Questo Allora Vieni qui con Ok Va che va Così E ho finito la cosa Maledizione Sì Forse non dovevo Vedare Ok Voilà Cazzo Voilà Così Poi Questo cosa Che è successo Ho una luce di artolina Giustamente Questa affoga così Bé Giustamente Secondo me Secondo me ho capito Allora Facciamo che questo Lo vediamo Poi prendiamo qua E prendiamo questo sasso E Lo buttiamo giù Lo tolgo così Ok In teoria adesso dovrei avere Due sassi Quindi Uno Due Oppa Oh cavolo Cavolo Ho visto qualcosa E vai Ne ho trovati due Ok adesso Aspettate un attimo perché Non so se questi No Non posso farlo Pensavo di Prendere un po' di quei sassi lì Eh però si cazzo Che mi saranno questi sassi No Eh si No 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 Vai su Vai su Marca miseria Sono Morto Molto Ah quasi ho preso Questo Carca miseria Ma questo non è facile Questo Ah Ah Ovviamente Questo me l'ho rotto Questo Oh No ma dai ma Wow Ok No pensavo che se ne scappava via Ma poi Che cazzo Sono trovi Oh guarda Qua ci sono zanzare Oh le zanzare Oh Direzione La benediglia Ma scusate Ma andate via Non c'avete lo spray Antizanzare Qua per queste Ma li vedete Il zanzare Pure qua Vengono Vai Pets Via 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 Questo. Vieni qua. Vieni qua. No, no, no. Non c'è un fogo. Così. Ok. Ok. Oh. Forza. E andate via, maledette. Schipide zanzare. Porca miseria. Non me lo aspettavo che affogava così, maledizione. Ok. Ah, è qui. Buffete. Adesso mi devo preparare perché qui affonda, affonda. Epa. Ok. Oppala. Almeno questa è. Ah. Vedete cosa devo fare? Devo fare il mio bellissimo... Punticello. Soppa, mi sa che... Merda. Merda, merda, merda. Aspetta un attimo, eh. Che forse... Ma forse ho cannato qualche cosa. Allora. Vediamo se riusciamo a farlo da questa parte. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Magari... Ok. E bisogna anche fare... ...i legacci giusti perché... ...perché non è detto che... ...che... ...che... ...che schifo. Ok. Cos'è sta roba? Un cartello? Un cartello devo prendere. Ah, ok, ok, ci siamo, ci siamo. Allora. ... 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 Ok. Quindi adesso se faccio così è qua. Qua glielo lego. Qua glielo lego. ... ... ... ... ... Cazzo... ... ... ... ... Ok, aspettate un attimo perché forse riesco a prendermi No, aspetta E non guardare quello, cavolo Ok, aspettate un attimo Sì, vabbè, questo ci metterà una vita adesso Vorrei riuscire a poter prendere quello Mi sa che l'ho Vabbè ragazzi, no... Lo farò poi, eh Adesso... Devo riuscire a saltare lassù Ah, ok Un po' brilla, quindi Andiamo là sopra Ehm... Ora... Ehm... Ehm... Ma è il quanto strano, perché non riesco a... Ehm... Ok, questo lo slego Dovrei riuscire ad arrivare dall'altra parte Però... Io so che non ci arrivo da questa parte Così Non ci posso arrivare, cazzo Però... Almeno che... No... Ora forse... Ci posso arrivare dall'esterno Maledizione A presto, ogni po' Ah, come Ok Vabbè io Io ci provo Tra che te Voilà Adesso Che pacco Oddio Oddio Corri 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 Arni Corri Oh no Adesso come ci arrivo Corri Noi. 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 A ver si da io nella sottra... Devo essere qui già. Grazie a tutti. Andate via! Andate via! Ah! C'era il trucco qua. Ok, allora adesso. C'era il trucco qua. Ok. Non sono molto convinto di quello che ho fatto. Facciamo una cosa. Torniamo indietro. E lo sganciamo perché... Secondo me... Ok. Ok. Che non vorrei che non... Non mi ci arriva poi. Ok. Ok, guardate qua. Bene. Quindi adesso... Uh! Cos'è questo? Ok, ma se io... Lo allaccio qua... Ahà, ho fatto... Ho fatto un... Un cordino. Opa! Il trattore! No, ma che figata! Il trattore! Allora... Cioè, adesso dobbiamo guidare il trattore. Ok. 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 ah ah figo ah ok ma io pensavo di guidare il trattore invece no è quello non facciamo più così no 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 non affogare adesso non posso farlo ok questo è il problema così e questo lo leghiamo qua così perfetto e adesso riusciamo a fare questo non era esattamente quello che volevo fare forse devo stare un po' più qua un po' più indietro ah forse proprio indietro deve essere più alto il salto forse ok era abbastanza anche avanti ok quindi adesso ok adesso ok adesso devo fare tarzan in sostanza fino lì ok andata andata il problema è che qua devo saltare veloce oh una un'alce ciao alce non è vero che non mi schiacci ok ho avuto un attimo di paura ora lo metto ok fatemi capire adesso come faccio ad andare lassù ok questo lo trasciamo qua non non bene ma non 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 forse Okay Porca miseria Ok Adesso qua devo fare così Così Voilà Ok Però Ma no Fai un su Anche se faccio così Non Così Si allunga un po' Un pochino Un pochino Ragazzi ragazzi Ho visto così per caso Allora vediamo se riusciamo ad arrivare lassù Non è così semplice andare lassù Ma io Con l'amico Jarni Ci siamo arrivati Allora non credo che Opa 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 Ah però aspettate Mi sembra che Da questo lato C'era Un po' di filo Ecco Guardate come sono Bello cicciotto Questo Ma spero non saprei Se andare qui su Wow Ho fatto un macello Chiedo scusa Ok ragazzi Penso che siamo alla fine del livello Ho riconosciuto Quella Quella figura lì Che c'è Ogni volta che finisce un livello Tipo un fiore O qualche tipo di Insetto E a livello Forse Ok vediamo Cosa abbiamo Palude di bacche Ecco queste sono le nuove immagini Delle palude di bacche Guardate Un bellissimo filo Che sarei io Praticamente E qui scopriremo Il prossimo episodio Che cosa ci Aspetta Quindi Da me e Iarni Qui è tutto Ciao a tutti Alla prossima puntata Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti